Ciao a tutti! Sapete già che grazie alla collaborazione con Cili TV, una delle piattaforme più grandi in Italia per lo streaming legale, abbiamo un regalo per tutti i nostri fan. La possibilità di provare gratuitamente lo streaming di Cili con un codice promozionale del valore di 5 euro da attivare entro il 24 marzo su un'ampia collezione di film, dai cult a molte commedie divertenti, film d'animazione e tanto altro. Dovete solo cliccare sul link che troverete nella descrizione di questo video e inserire la vostra mail, così potremo contattarvi e inviarvi il codice. Il tutto è gratuito, senza impegno e senza necessità di inserire carte di credito o altri dati di pagamento. Vi dà la possibilità di avere un credito di 5 euro, ve lo ripeto, da utilizzare per godervi alcuni film scelti dal catalogo Promo per te. E i film li potrete guardare su tutti i dispositivi, PC, Smart TV, Smartphone e Tablet. Buona visione allora e fatemi sapere quale film avete scelto. Ciao a tutti!